Lei e Lucia Lui e suo fratello Gino E vivono con il padre malato Sono soli, tristi e disoccupati La pensione in tre Non basta più Ma hanno un piatto Il loro futuro è nelle mani del dottor Mario Magnesio Sono disposti a tutto pur di ottenere L'accompagno di papà C'è solo un problema Non si trova più papà L'accompagno di papà Dal 21 aprile all'8 maggio Al Teatro Martinit